Stop dei trasporti, città a rischio caos. Uno sciopero generale per l'intera giornata, indetto da alcuni sindacati autonomi e di base, coinvolgerà infatti tutti i settori della mobilità. La protesta, a cui si aggiungono agitazioni a livello locale, è indetta a difesa del diritto di sciopero e contro le privatizzazioni e liberalizzazioni del settore. Lo sciopero, riguarda tutti i lavoratori del comparto aereo, e aeroportuale, per 24 ore. Il personale navigante, Gruppo Alitalia SAI, dalle 10 alle 14. Il personale navigante, è di terra delle compagnie aeree operanti in Italia, dalle 10 alla mezzanotte. Il sito dell'ENAC, pubblica l'elenco dei voli garantiti. Alitalia ha attivato un piano straordinario, essendo stata costretta a cancellare diversi voli nazionali e internazionali, oltre ad alcuni collegamenti nella mattina del 17 giugno. Opereranno regolarmente invece i voli in programma nelle fasce di garanzia. Dalle 7 alle 10, e dalle 18 alle 21. Fermi mezzi pubblici, rischio caos a Roma e Milano. Disagi anche nella circolazione di metro, autobus e tram. A Roma gli scioperi sono due, rispettivamente di 24 e 4 ore, indetti dai sindacati di base e dal sul. Entrambe le agitazioni, interessano sia la rete ATAC, che le linee periferiche Roma TPL. Per lo stop di 24 ore, sono in vigore le fasce di garanzia. Servizio regolare fino alle 8 e 30, e dalle 17 alle 20. L'agitazione di 4 ore, invece, sarà dalle 11 alle 15. A Milano, l'ATM, ha fornito gli orari delle fasce di garanzia. Dall'inizio del servizio alle 8 e 45, e dalle 15 alle 18.